Grazie per essere venuti. Allora, grazie per l'introduzione e grazie per l'invito alla ceca così. Questione generale. Disobbedienza e creatività sono parallele, necessariamente. Creatività vuol dire aggiungere qualcosa a quello che c'è già. Creo qualcosa, fin dall'origine, all'inizio di Io creo il cielo e la terra, aggiungo qualcosa a quello che c'è già. Per avere l'impulso ad aggiungere qualcosa a quello che c'è già, quello che c'è già non mi deve bastare. Cioè, per essere creativo io devo essere lievemente irritato, perlomeno, da quello che c'è già. Scontento. Scontento, parola bella, utile, contentezza, sono 800.000 anni. Quindi nessuna persona che vive durante la sua vita vede un cambiamento. Non appare nessun cambiamento evolutivo. Questo è il primo caposaldo forte. Io mi annoto già una domanda, ma non importa. Oh, qui le domande arrivano tantissime. E anche a voi risulta che darvi una ragione, no? Perché avevamo spiegato così a scuola, tutti lo sappiamo. Non avvengono mai cambiamenti nel corso di una vita, per cui mettiti tranquillo. Secondo principio, devi adattarti. Se ti adatti, sopravvivi. Da lì viene la famosa parola fitness, che voi conoscete per averla vista sulle palestre. E uno pensa che la parola fitness voglia dire agilità, prestanza, vigore. Assolutamente no. Fitness vuol dire adattamento. E Darwin è quello che dice la frase terribile, The fittest is the best. Quello più adatto è il migliore. E se non ti adatti, muori. Quando avvengono situazioni critiche, dice Darwin, ed è uno che ha interpretato la mente del suo tempo, tenete presente. Poi vi spiego perché. Allora, dice Darwin, quando avvengono situazioni critiche, non sopravvive il più bello, non sopravvive il più intelligente, non sopravvive neanche il più forte. Sopravvive il più adatto. Fatti i tuoi calcoli. Questa cosa viene ritenuta vera nella scienza. Oggi parliamo di resilienza, no? Sì, sì. Non si discute, che è vero. È il prodotto, come tante teorie scientifiche, del tempo in cui è stata fatta. Nel 1859 c'era l'Europa intera, era in stato di polizia. Cioè, se avessimo fatto qui una conferenza nel 1859, sicuramente ci sarebbero stati tre o quattro agenti che stasera riferivano in questura. E se qualcosa non andava, c'erano gli accertamenti a casa mia dopo. O ti adatti o muori. Era chiarissimo. E la gente diceva, sentendo Darwin, nel 1859, ha ragione questo, perché corrisponde. L'avesse detto 50 anni prima, anzi no, 60 anni prima, in Francia, durante l'evoluzione francese, non gli scopriano ridere in faccia. Dice, come se ti adatti, sopravvivi. Ti devi disadattare. Però noi abbiamo funzionato generalmente col darwinismo. Noi siamo bravissimi ad adattarci. Siamo bravissimi a fare quello che nel Vangelo si chiama ama il prossimo tuo come te stesso. Che, come sapete, nel Vangelo non viene mai detto in senso serio. Cioè, questo comandamento qua non è nel Vangelo, è nella Bibbia. Il Vangelo, è Mosè, no, che lo dice. Mosè dice, ama il prossimo tuo come te stesso e odia il tuo nemico. Perché? Prossimo cosa vuol dire? Prossimo è quello che hai accanto. Mosè stava cercando di spiegare alla gente il concetto di popolo. lo stava spiegando a una nazione, cioè a un gruppo di persone che erano vissute in un impero dove il popolo non esiste. Perché c'è l'impero. L'importante è essere sudditi dell'impero egiziano. Lui voleva fare un popolo, che era una novità per allora. Per spiegarlo lo condensa l'idea di popolo dicendo ama il prossimo come te stesso, cioè, sai cosa vuol dire popolo? Vuol dire tu sei vicino a un'altra persona e lontano da altre persone che sono gli stranieri. Quelli che hai vicino gli vuoi bene come a te stesso. Quelli che sono più lontani non ti devono piacere. Questa qui è l'idea. Nei Vangeli Gesù dice sapete che è stato detto ama il prossimo tuo come te stesso ma io vi dico di non farlo. Io vi dico ama il nemico, ama lo straniero. Cioè, sii disadattato in patria. Vuol dire questo. E qui continuiamo a parlare cioè di disobbedienza, di adattamento, di disadattamento rispetto al contingente, cioè all'esterno. Però la prima disobbedienza forse che porta alla creatività è quella verso se stessi. Sì, sì. E questo è il passo a cui poi si arriva seriamente perché tu pensi allora devo disadattarmi, no? Mettiamo che sia così. Manuale, tutte le scritture sacre specialmente medio orientali sono tutti quanti manuali di creatività dalla Genesi fino all'Elettro di Paolo. Tutti manuali di creatività. Non le religioni, eh. Le religioni sono al contrario. Però i testi sacri sono molto precisi. Allora dice, va bene, mi disadatto. Mi disadatto, disobbedisco. Disobbedisco, però, se disobbedisco agli altri mi trovo in situazione di essere un ribelle. Il ribelle cosa fa? Il ribelle in qualche modo dipende da ciò a cui si ribella. No? Se io mi ribello a qualcosa vivo accanto cioè sono in funzione di quello che mi viene. La disobbedienza interessante quella di cui vogliamo parlare oggi è invece di un altro tipo ed è la disobbedienza a se stessi. Disobbedienza radicale. Disobbedienza a se stessi non esiste una disobbedienza più grande di questa. Perché tu comunque sia specialmente dopo la psicologia la psicanalisi, eccetera hai imparato da qualche anno con grande intensità che l'importante è essere se stessi. essere se stessi non so, 30 anni fa l'importante era sapere cosa dovevi fare adesso l'importante è la priorità impara a scoprire chi sei diventa consapevole e accorgiti di tutte quelle che sono le tue realtà. Questo, per quello che riguarda le persone creative è una forma di paralisi di cui non ci si accorge. Se tu cominci a essere te stesso smetti di trovare tantissime prospettive nuove che trovi invece quando disobbedisci a quello che sai di te. È difficilissimo all'inizio poi proviamo se volete difficilissimo all'inizio è entusiasmante a un certo punto quando ti accorgi che disobbedendo a te stesso tu cominci a scoprire delle cose di te che non avevi mai avuto l'idea. Ma non puoi dire quello sono io quello sono più di me quello è qualcosa di grande che c'è in me che fino adesso quello che io sapevo di essere mi bloccava. E è una la teoria generale è questa naturalmente Darwin a questo punto va perso mi devo disattattare all'intorno e mi devo disattattare addirittura a me devo cominciare a mettere in moto delle capacità di me che io non so e le posso scoprire solamente se mi dimentico quello che so di me. Vantaggio enorme da subito. Se tu cominci a dimenticarti quello che sai di te e a superarlo eviti lo psicanalista. Siccome lo psicanalista cosa fa? Lo psicanalista risolve tutti i tuoi problemi in base al tuo passato. Cioè cerca di capire cos'eri tu e in base a quello che eri vedere quello che sei diventato. Ecco se io invece mi dimentico di me e dico questo non sono io questo non sono io io sono qualcosa che ancora non so oppure tanto per citare ancora le scritture c'è un punto delle scritture nell'Esodo in cui Mosè chiede a Dio come si chiama e dice tu chi sei? Perché Dio gli sta proponendo una collaborazione. Dice lavoriamo insieme e mi hanno dimenticato per me e tu mi fai da ufficio stampa. per gli ebrei e cosa che Mosè dice veramente non posso dice no dai cosa ne frega allora cominciano a collaborare insieme e Mosè dice a proposito come ti chiami? E mi dice io mi chiamo così mi chiamo io sarò quello che sarò tradotto in italiano in inglese in spagnolo in greco in tutto tradotto sempre tradotto sbagliato perché è in ebraico è chiarissimo anni eie asher eie che è io sarò quello che sarò non può essere altro invece in italiano diventa io sono quello che sono capite il dramma? cioè una novità di questo tipo gigantesca di uno che dice il mio nome è quello che sono non conta io sarò quello che sarò questo è quello che sono io ecco viene cancellata perché nella nostra cultura darwiniana già prima di Darwin l'importante è essere se stessi adattati agli altri io sono quello che sono come si può fare per dimenticarsi di sé e scoprire insomma angolature magari impreviste cioè in due modi allora possiamo parare per altre quattro ore della teoria oppure passare alla pratica 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 rientra nel primo esercizio non è male questo allora sono esercizi della creativity theory della teoria della creatività che è una roba che gli americani hanno cominciato a fare dopo la guerra perché si sono accorti essendo una nazione che produce idee pensate Hollywood produce idee hanno pensato lì si produce grazie grazie alla creatività però la creatività bisogna aspettare che piova noi non vogliamo aspettare che piova vediamo se c'è una teoria in cui si possa come vuoi col farmaco con l'elettroshock con il trauma in cui tu ti metti in posizione creativa e la teoria che ha lavorato dagli anni 40 in avanti ha prodotto tantissime cose di un grandissimo interesse tipo questo esercizio allora c'è una persona tra le persone famose che voi conoscete famose però deve essere famose è molto famosa c'è una persona che tu detesti profondamente ti dà fastidio ti dà talmente fastidio che non la guardi neanche per esempio per me io non avrei dubbi ed è Fiorello non avrei no cioè già il nome cambiamo subito ci piace no è Fiorello perché Fiorello e si dice perché Fiorello perché ti faccio una serie di ragioni anche di carattere atropologico dice ero abituato a villaggio a tognazzi a sordi gente che rompeva le scatole a livelli terribili gente coraggiosissima come uno schede e Fiorello mi sembra non ne capire è banale è sempre a favore dei potenti non mette in discussione niente non lo detesto ma lo detesti più Fiorello e Panaria no Fiorello un altro può dire no Fiorello non lo detesto io odio cosa come si chiamano non voglio neanche dire il nome quel politico italiano di prima ecco invece no quello lì a me è simpatico ognuno ha il suo tu pensa qual è il tuo o la tua che odi vi lascio qualche secondo per fare questo esame di coscienza però Fiorello non ci penso mi viene in mente una persona anche oggi ecco questo è male male no uno c'è uno c'è ce n'è uno ma anche madre Teresa di Calcutta proprio sta presuntuosa anch'io in mezzo ai lebrosi mi darei un sacco di anni tanto posso far niente ecco oppure non so Salvini odio Salvini potrebbe essere questo però io odio lui ecco e adesso devo cominciare a scrivere un libro no se io odio lui io so chi sono io so chi sono perché io sono quello che odia Fiorello io sono diverso cioè nei punti fermi della mia vita c'è l'odio per Fiorello ma non è neanche odio odio è l'impegnativo è ripugnanza e disprezzo adesso devo scrivere un libro se vuoi fare un po' di creatività basata su disobbedienza di autodistruzione che è una bella parola tu cominci a pensare Fiorello il tuo libro come lo scriverebbe ecco se io ci penso a questa cosa qui all'inizio mi fa orrore dicono mi interessa minimamente sforzati riflettici e cominci a scrivere il tuo libro come lo scriverebbe Fiorello fai centomila coppie con la seconda edizione di sicuro perché? un motivo preciso allora tu nel corso della tua crescita per diventare te stesso a un certo punto hai eliminato certe tue capacità belle grandi a cui tenevi molto che ti disturbavano nelle scelte che avevi fatto per diventare te stesso le hai messe da parte e per averle per essere sicuro che fossero proprio da parte che non le toccassi più fai messa in una serie di barattoli su cui ci hai messo le foto di persone che ti sono antipattiche e che avevano quelle capacità porca miseria quindi per me Fiorello che io non ho mai visto per più di 30 secondi Fiorello è il simbolo di qualcosa che io ho rifiutato nella mia crescita che cosa? quel tipo di cordialità per verso la gente che io amavo tantissimo da ragazzino ma non c'entrava con la carriera accademica che avevo scelto quindi l'ho messa da parte capito? esempio più calzante di questo mia suocera no no non in quel senso mia suocera il modo sicuro per far irritare questa bravissima persona è dire una parola che comincia per karma 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 perché subito queste quattro lettere lei fa scattare l'immagine di Carmen Russo che lei detesta quasi quanto io detesto Fiorello e Carmen Russo lei ma perché ce l'hai così tanto con Carmen Russo ah non esiste è una roba terribile è una roba terrificante la Carmen Russo se vedi le foto di mia suocera di quando aveva vent'anni capisci tutto immaginiamo lo stesso davantino importante lo stesso sguardo lievemente perverso molto generoso è la stessa carica sensuale altra niente poi lei ha sposato uno dell'Opustel capito com'è? adesso in teoria visto su di me visto su di lei interessante però visto su di te per poter fare questo esercizio tu devi venire fuori da te stesso ma proprio sgusciare fuori da te stesso e uscire in libertà perché il tuo te stesso è quello che ha tra le sue certezze gli odi qui allora intendeva questo con Amal tuo nemico forse non so se lui fosse esperto in teoria della creatività l'autore dei Vangeli però non lo escluderei ma quindi cioè allargando creatività significa disobbedire a se stesso nel senso riappropriarsi di tutte quelle dimensioni che per entrare in determinate regole o obblighi di essere quello che ci siamo imposti di essere abbiamo dimenticato questa è una questa è una per disobbedire a se stessi e aver recuperato una serie di dimensioni però capisci che io lo sento come uno sforzo terribile cioè dovessi fare un libro se il solo pensiero di Sciorello mi deprimerebbe invece io dovrei mettermi lì e ogni tanto lo faccio e quando lo faccio vanno bene vanno molto bene molto meglio degli altri perché capisco perché tiro fuori quella parte di me che ho nascosto però io non mi ricordo neanche più che mia io sono fissato sulla mia immagine di me sì ma in questo modo perdo autorevolezza potresti dire autenticità no trovo autenticità e perdo autorevolezza perché non posso più dire io che sono io dico questo non posso più dirlo e infatti un'altra tecnica di creatività molto bella è quella che si chiama insegna i tuoi problemi qui dove funziona anche questo è uno dei quelli dei colpi nello stinco lo psicanalista perché risolve un sacco di guai senza bisogno dei sette anni di terapia allora tu hai un problema che non riesci a risolvere per esempio a rivitarti sempre no trova una persona fidata e gentile e paziente e insegnagli ad arrivare in ritardo è facile allora io mi sveglio la mattina giusto mi sveglio giusto però dormicchio ancora un po' questo mi fa sfasare di dieci minuti ma io penso questo lo spieghi tu a un altro ma io penso io penso che tanto posso recuperare perché mi laverò i denti facendo una doccia quindi e avrò messo sul caffè infatti recupero perché facendo una doccia mi lavo i denti e mi lavo sul caffè per cui ho recuperato i dieci minuti di ritardo che avevo quindi andrebbe tutto bene ma devo sentire l'oroscopo su canale 5 il mattino io sono della bilancia ho dei gemelli purtroppo siamo già al cancro allora devo aspettare che ritorni il ciclo dopo e questo va bene poi c'è l'uscita da casa l'uscita da casa tutto bene sono solo cinque di ritardo in ascensore mi domando ho spento il gas torno su a vedere poi la seconda volta per un ascensore dice ma sono tornato su a vedere e ho controllato o forse mi sono solo il uso di controllarlo in questo modo posso garantirti che arrivo con un quarto d'ora di ritardo sempre lo racconti due volte a una persona e dopo di che non arrivi più in ritardo se riesci a focalizzare un tuo difetto e a raccontarlo naturalmente chi ci rimette tu ci rimetti tu ci rimetti perché non puoi vantarti non puoi dire da me va tutto ma va bene ma va non bene perché arrivo in ritardo sai perché arrivo in ritardo e glielo spieghi tutto in questo modo cosa ottieni un balzo in alto della tua evoluzione personale rimanendo però bloccato cioè tagliato fuori per quello che riguarda la tua autostima ah dice l'autostima l'autostima è terribile l'autostima perché se tu metti l'autostima in contrasto cioè in confronto con questa subbedienza l'autostima diventa grande intralcio e l'autostima vuol dire si contento di come sei contento vedi sopra si trattenuto in ciò che sei allora tu ti ribidi l'autostima meno male che c'è il pensiero no pensiero positivo è anche peggio pensiero positivo è non solo sei contento di quello che sei ti va bene anche tutto il resto sei perduto puoi solo fare indipendente chi ha inventato il pensiero positivo questo qui è una delle poche cose che l'Italia può avvantare no Mussolini Mussolini è un bel pensiero positivo tant'è vero che su Auschwitz entrando tu cosa vedevi scritto Arbeit macht frei un bel pensiero positivo il lavoro fa diventare liberi entra le docce sono a destra perché il pensiero positivo è calmante è contentante ti fa essere tranquillo in quello che sei di te è il diavolo in persona naturalmente poi tutte queste cose qui noi non lo sappiamo ancora dal 2013 il pensiero positivo è finito in America come sapete come forse sapete in base a una serie di esperimenti della psicologia americana che è tutta sperimentale c'è uno molto bello sul bad and good sapete che bad and good sono due parole non traducibili bad non vuol dire cattivo good non vuol dire buono cattivo è evil bad vuol dire avverso bad day un giorno contro sarebbe good vuol dire favorevole allora esperienza bad esperienza good test fatto 10.000 volte per essere sicuri del risultato durante una lite domestica scatta un insulto quanti complimenti servono per compensare quell'insulto per esempio lui dice maledetta cicciola quanti complimenti deve fare per sedare la giusta ira che prova lei e fargli dimenticare dite una cifra una cinque 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 complimenti stato eh quattro non bastano cinque già si respira in casa di colpo cosa vuol dire questo un dato terribile che l'esperienza good ha un livello energetico cinque volte inferiore all'esperienza bad quindi un'esperienza bad ti porta a un livello energetico cinque volte più alto un'esperienza good è un sedativo però ascoltando le tue parole mi viene in mente mi viene in mente io mi alzo al mattino devo essere incazzata raccogliere esperienze bad per essere creative devi solo pensare andare contro me stessa devi solo pensare che hai sbagliato tutto ecco cioè ti regli al mattino e dici che vita stupida che mi succede spesso io sono molto di più di quello che ho vissuto io sarò quello che sarò io sarò quello che sarò non sono tutte esperienze sgradevoli per esempio altra tecnica esperienza gradevole che può diventare infernale allora tutti noi siamo campioni mondiali di concentrazione su cose sgradevoli tutti cioè se tu pensi dove è stato lui ieri sera che è tornato con un'ora e mezzo di ritardo e ti immagini puoi passare anche due ore a tormentarti su questo messaggio senza interruzioni il tuo io conosciuto è contento perché è lì che freme e via via l'ho conosciuto niente gli fa bene come il dolore per cui si difende da questo dolore resiste si compatta esercizio pensa per sette minuti ininterrotti ininterrotti a qualcosa che ti piace moltissimo una sola cosa fai questo yoga non in posizione è l'American dream è l'American dream che starva qui nella scoperta già prima della teoria della creatività negli anni 30 quando c'erano tutti i vari nettodi degli psicologi per dare una mano uscita dalla depressione dalla grande depressione americana dal crisi del 29 è questo qui degli anni 38 37 che si deve fare American dream tu arrivi in ufficio sette minuti prima dell'inizio del lavoro metti i piedi sul tavolo è indispensabile mettiti i piedi sul tavolo perché bisogna irrorare il secondo chakra cioè tu sei così sei una persona molto fattiva e concreta perché stai irrorando il primo chakra se metti i piedi sul tavolo c'è questo effetto taxista per cui questa parte qui il secondo chakra viene irrorata e diventa caldina tutti dicono che i taxisti siano irresistibili come amanti e dicono perché? me l'ha detto una mia amica comunque e l'ha riconnesso il secondo chakra il secondo chakra cos'è? da un lato è quello sessuale dall'altro è quello del mi piace non mi piace quindi è quello che serve in questo momento e dipiti sul tavolo e pensi voglio fare il campione di scena e immagini per 7 minuti le discese prova il tempo medio di una persona che ci prova è 40 secondi dopodiché pensa devo telefonare orca non ho parcheggiato cosa avrà inteso dire ieri l'altro ecco non riesce a concentrarsi sulla cosa positiva non ci riesce perché non riesce perché la cosa positiva lo fa sentire scontento di quello che è intorno allora diventa pericoloso diventando di più di quello che è intorno capisce che può solamente esprimere questo di più in un modo conflittuale corretto per cui c'è questo meccanismo di prudenza prudenziale e gli dice attento non pensare troppo bene per un tempo troppo lungo non sognare così tanto American Dream è una teoria no sogna impara a essere scontento della situazione in cui sei così ti verranno in mente altre idee non è detto che sia conflitto può darsi benissimo che invece di dirigere verso lo scontro con gli altri lo dirigi verso idee nuove è facile creatività creatività e conflitto hanno la stessa origine la scontentezza solo che uno litiga e si riagrappa alla situazione attuale l'altro la creatività fila via lontano e produce idee una volta prodotte per produrre idee ci vuole immaginazione ecco l'immaginazione non va a comando non puoi metterti lì a far venire fuori l'immaginazione non puoi neanche metterti lì a pensare questa posizione qua decido di concentrarmi puoi solo ragionare non puoi pensare pensiero immaginazione sono cose che succedono nella tua mente l'immaginazione succede è un talento quindi è nata cioè ci sono persone indubbiamente più creative più capaci di mettere insieme no tutti tutti quanti hanno una capacità creativa tremenda non per niente tutti quanti hanno un dio creatore tutte le religioni c'è un dio creatore cosa vuol dire un dio creatore per me ha senso l'universo solo se qualcuno crea qui una specie di messaggio subliminale che uno dà a se stesso dire la cosa che mi importa per me è la creazione lo sento i bambini non fanno altro che creare poi smettono diventando adulti l'immaginazione è una facoltà che una persona come l'udito come è un senso percettuale come l'udito come la vista vedete che i sensi si dividono in più o meno passivi la vista è attivo io posso fare così io posso fare così il gusto è attivo io non voglio assaggiarlo non assaggio questa roba l'olfatto è attivo perché io posso non far caso un odore con grande facilità l'udito è passivo l'udito non puoi voltarti qualcosa la senti non puoi bloccarlo ecco il tatto è attivo l'udito è il più indifeso dei sensi immaginate l'immaginazione come un senso ancora più passivo del resto cioè per immaginare non occorre fare niente occorre solamente evitare che qualcosa intralci l'immaginazione che si produce in te che succede l'immaginazione coincide un po' con il sesto senso famoso con il sentire con la pancia anche una sensazione che si ha l'immaginazione come dice la parola stessa è farsi immagini di qualcosa che non puoi ancora indicare con le parole non è invenzione invenzione vuol dire mi metto lì e faccio un progetto per realizzare in un certo modo un'idea che ho avuto immaginazione è un radar è un radar che funziona quando tu però ti spegni più tu ci sei meno immagini più tu ci sei più regole però più a più regole io sono sottoposto o un'organizzazione sai che adesso vanno anche tanto di moda i temi insomma maledizione del talento è come dice cioè più regole vengono messe più anche le persone più creativi e più talentuose si abbassano nella resa perché ammazzi la loro immaginazione certo certo l'imbarazzo è la maledizione di tutti i grandi geni l'essere in situazione imbarazzata ecco l'imbarazzo è quello che uno provoca quando dice forse non sono più io forse non sono più me stesso dimenticati te stesso poi un'altra cosa che posso suggerirvi avete presente il critico interiore quella vocina che dice tanto non ce la fai non ti legge i provi ecco quella lì quella nell'io come tu ti conosci è il nemico cioè tu senti il critico interiore dice tanto non ce la fai tu lo chiudi non vuoi sentirlo lo spegni e qui c'è tutta una invece una scoperta da fare quella vocina lì ha due voci sono due voci in realtà fateci caso la prossima volta che succede una dice tanto non ce la fai perché non ce l'hai mai fatta perché sei come tuo padre o sei come tua madre o sei come tuo zio o sei come tuo figlio come ti pare poi collezionato in successi perché diciamo no il successo ti fa un ricordo sbagliato una di quelle dice non ce la farai perché fino adesso non ce l'hai fatta e questa è quella cattiva questa è molto cattiva poi vi spiego come trattarla poi c'è quella che dice invece tu non ce la farai e noi due sappiamo perché quella l'ascoltata perché contro di te naturalmente però contro il tuo io quella va ascoltata perché se l'ascolti quella poi ti dirà tu non ce la farai a fare questo perché è troppo poco per te a te sarei qualcosa molto più grande per esempio tu con questa persona non riuscirai a attaccare il bottone neanche per sogno perché fino adesso non sei riuscito cattiva tu con questa persona non riuscirai a attaccare il bottone neanche per sogno e noi sappiamo perché e tu lo senti che non ce la farai e tu lo senti se ascolti quest'altra vocina scopri che quella persona ti piace fino a un certo punto anzi proprio neanche granché e potresti pensare molto meglio come persona con cui attaccare il bottone invece di quella da dove arrivano queste vocine? cioè le abbiamo noi come fare ad affinare la sensazione anche di sé del vero sé? me ne sono accorto una volta quando proprio mi si è chiarito tutto un tratto questo percorso aveva i tempi in cui si chiariva allora era estate settembre e avevo passato tutta l'estate a scrivere un libro che stava venendo male scritto non tipo Fiorello scritto proprio sta venendo veramente male ed era un gran peccato perché era un libro di 500 pagine però era irrimediabile c'era niente a fare ormai quindi l'ansia produceva questo soprattutto veniva male perché si era di mezzo in mezzo si era messo in mezzo il redattore sapete cos'è il redattore? il redattore è un essere che c'è nelle case di Trici che passa il tempo a rompere le scatole all'autore dicendo perché lei qui ha messo il punto e virgola e dico perché ci vuole quello è sicuro per me ci sarebbe il punto no ci vuole il punto e virgola immagina su 500 pagine e poi siccome non ci intendevamo facendo le dispette c'era la gabbia brutta metteva le citazioni con la rientranza sbagliata insomma era proprio un'estate dura e sto facendo la doccia mi ricordo era pomeriggio sto facendo la doccia e a un certo punto io sento dentro di me la voce che dice ecco non ce la farai perché non hai imposto la tua volontà se avessi imposto la tua volontà ce l'avresti fatta ma siccome cioè questo però detto da me ecco non ce la farò perché non ho imposto la mia volontà se avessi imposto la mia volontà ce l'avrei fatta ma sono come mio padre eccetera e c'era questa voce che continuava nella mente che ero io a me sembrava che fossi io poi l'ho ascoltata bene l'ho ascoltata bene e mi sono accorto che era una voce femminile che diceva tu ma io lo sentivo come io d'altra parte tu nella mente quante voci pensi di avere cioè se dentro ci sono io no? quindi se una voce parla vuol dire che sono io invece era una voce femminile una voce femminile di una signora sui 50 anni indovinate chi? Carmen Russo no? era naturalmente la voce di della mamma no? si è tradita questa voce dicendo sei come tuo padre io ero lasciata parlare a questo punto e più parlava più mi accorgevo che non ero io ma fino a un attimo prima ero io mi accorgevo che addirittura aveva un tono femminile aspetta non era mia madre come adesso per esempio non era mia madre come era mia madre come era quando aveva 50 anni ne aveva 20 era fissata lì era un ricordo fastidioso che aveva prodotto un lupo che continuava ad agire come critico interiore di quelli cattivi che trattenevano il passato e continuava ecco guardandola come tutte le questioni interiore più le guardi più le osserve più c'è l'effetto Dracula l'effetto Dracula si è visto il film lo sferato Dracula si tratta per far fuori il vampiro di farlo stare fuori dalla bara fino all'alba il primo raggio di sole che lo prende lo polverizza immagine chiarissima da un punto di vista psicologico cosa vuol dire non appena tu una cosa la vedi bene che è un valore psichico questa cosa qui cessa di esistere e infatti questa voce ha cominciato ad accartocciarsi gridando mostrando i denti si è accartocciata e è discesa per la giornata doccia nelle condutture il giorno dopo è stato memorabile perché c'è una serie di colpi di fortuna da allora tutte le volte che sento qualcuno che dentro di me dice io io chiedo i documenti documenti chi è lei chi è lei in questo modo naturalmente non so chi sono e questo è il grande vantaggio avete domande tra l'altro curiosità o qualcosa da chiedere a voi stessi la vocina il problema però secondo me è che la fase distruttiva cioè capire cosa ci blocca è più semplice di quella poi dell'azione in positivo cioè del riprendere hai capito la situazione in pugno per proporsi in un'altra maniera per recitare anche più parti perché poi qua anche c'è tutto il tema a volte di essere attori nelle situazioni per cambiare le prospettive non è male dunque è sicuramente più semplice perché per distruggere l'immagine che sia di se stessi tra parentesi andando contro quello che dice qualsiasi tipo di psicologia popolare che adesso avete intorno allora andare contro l'immagine di se stessi è abbastanza semplice perché è un concetto che si basa su semplice istruzione praticamente non fidarti di te non dar retta smettere di dire lei non sa chi sono io e pensa tanto ho sbagliato tutto quindi devo ancora crescere tantissimo sono ancora all'inizio riiniziati ogni volta quello che avviene dopo la parte costruence diciamo non è che sia se non è che sia complicata è inspiegabile ma non ti riguarda cioè si mette quello che si mette in moto dopo lavora per conto suo l'immaginazione dicevo prima come l'arte è una cosa dice Oden l'arte art happens art happens l'arte succede non ci puoi fare l'arte succede l'immaginazione succede tu non centri questo lo diceva anche Jung se vi interessa parlando però in generale non solo l'immaginazione ma di tutto quello che una persona riesce a immaginare inclusi i pensieri Jung diceva è un errore pensare di dire di se stessi io ho pensato che perché quando un pensiero è interessante non sei tu che l'hai pensato è arrivato e se tu l'hai pensato si dice che l'hai pensato vuol dire che è arrivato bene tu l'hai preso l'hai sminuito hai cercato di condividerlo in parole con altri mettendolo in parole ti sei perso il 90% di quel pensiero e quello puoi dire sì io l'ho pensato quello però è brutto invece è bello quando arriva il pensiero tu non sai da dove arriva non sai com'è semplicemente lo prendi e dici questo lo seguo certo togliendo di mezzo quello che sai di te eviti anche tutta una serie di censure che ti possono venire automatiche di cui non ti accorgi minimamente sono talmente automatiche che non te ne accorgi questo non lo penserò perché va contro quello che ho sempre fatto questo non lo penserò perché va contro quello l'immagine che gli altri hanno di me questo non lo penserò perché invece il rallegrarsi dell'andare contro se stessi è proprio il segnale a parte ripeto da un sollievo enorme è un segnale evolutivo forte quindi cioè per trarre un'indicazione diciamo e mi piace molto il fatto di cancellarsi sempre cioè dimenticare il passato essere sempre una sorta di tabula rasa in cui i pensieri possono accadere perché c'è anche spazio quindi la situazione di spazio è molto importante cioè fare pulizia sì sì questo qui è l'idea questa è una cosa della Kabbalah della signora Kabbalah l'Uriana Kabbalah del 1500 allora Dio ha creato il mondo dal nulla no? cosa vuol dire? cosa vuol dire? noi non siamo mai posti il problema invece questi Kabbalisti erano terribili nulla in che senso? allora Dio è infinito giusto? è infinito se no non sarebbe Dio se è infinito prima della creazione dell'universo che non è Dio c'era solo Dio l'universo non è Dio cioè un rubinetto non è Dio sicuro no? allora l'universo è qualcosa di diverso da Dio prima dell'universo c'era solo Dio come ha fatto Dio a creare l'universo? per prima cosa ha dovuto creare il nulla ha dovuto aprire in questo infinito in ebraico si chiama Simzum Simzum ha dovuto aprire in questo infinito come nel Groviera un buco di vuoto ha dovuto fare vuoto dentro di sé in quel vuoto ha potuto creare qualcosa non è male come idea in questo modo ha creato dal nulla sì ma prima deve aver creato il nulla e così spero di te perché in tutte queste cose ripeto c'è sempre elemento manualistico allora tu hai capito bene di fare il nulla è fallo fai più nulla fai più crei cose c'è poi uno scrittore un bel compito no? c'è uno scrittore in chiusura perché gli fanno cenno dalla regia giusto? no perché sono discorsi che quando uno inizia uno smetterebbe più di starci no? su certi temi però provate 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 quello dei sette minuti all'inizio sarà molto frustrante perché a tre minuti non ci arrivi anche se impegni provate quello di Fiorello che è una violenza a se stessi tra le più produttive che si possono immaginare e provate quello dell'insegnare il problema cioè di buttare via l'immagine che hai di te ovviamente con persone fidate e poi di creare il nulla l'emozione che dà è tipo alla Robinson adesso io creo tutto io adesso mi sembra che non sia sull'impotenza meraviglioso ecco ci hanno fatto sei grazie tanta roba su cui pensare grazie 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 grazie